Torniamo, carissimi amici di Pausa Caffè, a parlare ancora una volta dell'argomento del momento, ovvero Temptation Island, che ha visto partorire solamente la prima puntata, poi certo ce ne saranno altre, ma il pubblico è già in estasi con le storie delle coppie. E indubbiamente Isabella Recalati è una delle maggiori protagoniste del reality show di Filippo Bisciglia. Lei è fidanzata con Manu e provengono da delle realtà economiche totalmente differenti. Lui è originario di un quartiere popolare, mentre lei è sempre stata nel centro della città di Milano, zone totalmente diverse, e vogliono quindi capire se sono fatti l'uno per l'altra per poter proseguire senza intoppi la relazione. Ma adesso è emerso qualcosa di clamorosa sulla concorrente di Temptation Island. Isabella Recalcati avrebbe infatti ben altri obiettivi nella sua mente, come ha affermato una persona che afferma di sapere le sue reali intenzioni. E questa giovane ha deciso di rilasciare anche un'intervista a fanpage, dove ha raccontato cosa pensa della 26enne e soprattutto cosa potrà succedere prossimamente. Chi ha deciso di parlare di Temptation Island e di Isabella Recalcati è stata Giuse Alemanno, la quale inizialmente ha subito confermato una mossa fatta dalla concorrente prima di partecipare. Lui ha raccontato al mio compagno che non aveva compilato alcun format per partecipare, ma era stata Isabella a fare tutto. Isabella ha inviato la partecipazione al programma con il nome di Manuel, senza che lui sapesse niente. Quando poi lo hanno chiamato la prima volta, lui era al lavoro e ha detto che non poteva parlare. Successivamente Alemanno ha giunto a fanpage, dopo si è confrontato con lei per sapere come comportarsi e la fidanzata gli ha spiegato di aver fatto tutto in cerca di visibilità e con lo scopo di entrare in tv. Questa ragazza che in anteprima ha fornito queste clamorose notizie su Isabella ha anche ipotizzato che lui non si presenterà al falò di confronto. Ma non è tutto perché la Recalcati sarebbe andata a Temptation per poi separarsi da Manu e immergersi in un'altra avventura televisiva. Questa l'ultima pazzesca affermazione su Isabella Recalcati, lei è disposta a tutto pur di entrare in tv. Secondo me molto probabilmente si candiderà per uomini e donne o il grande fratello. Staremo a vedere se andrà davvero così o no. Cari amici per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.